In arrivo per la città di Agropoli 130.000 euro per tre istituti scolastici comunali della città. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono assegnati contributi in favore dei comuni nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il decreto legge 30 aprile 2019, numero 34, recante la scritta Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, assegna il contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adiugamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il comune di Agropoli risulta essere destinatario della somma di 130 mila euro. Tali somme potranno essere destinate alla risoluzione delle criticità riscontrate negli edifici scolastici comunali, istituto comprensivo Gino Rossivairo, sito in via Aldomoro, istituto di direzione didattica primo circolo Agropoli Gino Landolfi, sito in piazza della Repubblica, istituto di direzione didattica primo circolo Agropoli Santa Maria delle Grazie, denominata Infanzia Centro, sito in via l'Europa. Tali interventi non sono già stati finanziati con fondi pubblici o privati nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo. Tali interventi sono lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019. L'esecuzione dei lavori è prevista entro il 31 ottobre 2019.